Allora, visto che siete i miei ospiti dovete per forza mangiare qualcosa Kiro, tesoro, che cosa vuoi che ti porto da mangiare? Ehm... No, non voglio niente, grazie Ma come niente? No, non guardare tua madre, Barbara, no eh, tuo figlio deve mangiare qualcosa No Cinzia, no eh, davvero mio figlio non vuole mangiare adesso tranquilla No, 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 voi siete i miei ospiti e dovete mangiare Tesoro, non guardare tua madre, guarda me, guarda me Che cosa vuoi mangiare? Eh? Dai No, non voglio niente, davvero Lo sapevo, tesoro, ti porto una bella fetta di torta No Cinzia, tesoro, mio figlio non ha fame, non portarla Ormai gliela sto prendendo, eh Ok, tesoro A casa facciamo i conti e ti faccio vedere Ma gli ho detto di non portarmi niente Stai zitto A casa vedi?